Uno spettacolo nello spettacolo, sì, vogliamo definire con queste parole una grande serata di musica in compagnia di un artista che da tanti anni continua a travolgere con la musica e la simpatia le piazze italiane. E il Social Swing Tour 2012, firmato da Paolo Belli, che ha fatto tappa a Francavilla al mare, una grande emozione ogni volta tornare ad esibirsi in Abruzzo, ci dice al microfono l'artista che abbiamo incontrato prima del suo concerto. Allora Paolo, un ritorno in Abruzzo, il tuo Swing Social Tour 2012, partito il 21 marzo da Roma e oggi si ferma a Francavilla. Sì, e poi domani ripartirà per Perugia, abbiamo già fatto un sacco di date, ci porterà fino al Canada, ma sono felicissimo di essere qui perché tu lo sai, non mi conosci bene, qui quando vengo dalle vostre parti succede il finimondo, quindi sono sempre in trepida attesa, ogni volta che si mette giù il calendario per vedere se ci sono le date in zona. E grazie a Dio ci sono, tra l'altro stasera ci sarà uno spettacolo nello spettacolo, perché mi sono venuti a trovare due amici, uno è Dado e l'altro è Stefano Disegni, mi sono venuti a trovare e gli ho detto venite sul palco, mi hanno detto di sì, gratuitamente verranno sul palco e quindi il pubblico che stasera sarà qui a Francavilla vedrà sicuramente due artisti straordinari che sono loro e poi si dovranno adattare anche il sottoscritto. Due ore di spettacolo a ritmo serrato che ha coinvolto non solo Paolo e i suoi musicisti sul palco ma anche il folto pubblico presente in piazza della stazione. Sono tornati alla luce i suoi più grandi successi discografici, da Ladri di Biciclette, Dottor Jets e Mr. Funk, Sotto questo sole, Ehi signorina Mambo, ci baciamo tutta la notte, un giorno migliore, dillo con un bacio, sono un gigolò, fino a Faccio Festa, colonna sonora del Giro d'Italia della RAI nel 2011. Non sono mancate poi le grandi hit di Ballando con le stelle, la trasmissione regina del sabato sera di RAI 1, oppure l'ultima canzone presentata in anteprima al concerto per i terremotati dell'Emilia a Bologna. Sì, io credo che la mia, la scaletta sia sempre un po' problematica, perché sappiamo come cominciamo, poi non sappiamo mai dove va a finire, perché dipende sempre dal pubblico sotto al palco e comunque sì, si spazzerà da tutto quello che ho scritto, dai Ladri di Biciclette a fine arrivando a Ballando con le stelle. Ricorderemo anche il tragico fatto, i tragici fatti, visto che sono state più di 1500 scosse di terremoto, però cercherò questa sera di parlarne poco poco, perché qui credo che ci sia bisogno di dire poco, perché sapete perfettamente che cosa vuol dire. Però, lo dico pubblicamente, lo dirò anche questa sera, voglio ringraziarvi, perché non so se lo sai, i primi ad essere arrivati in Emilia a darci il mano sono stati gli abruzzesi e quindi volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi, perché noi abbiamo bisogno di partire e siamo ripartiti bene, grazie al vostro aiuto, probabilmente perché sapete che cosa vuol dire veramente, quindi siete partiti immediatamente ed è giusto che io lo sottolinei questo fatto, perché sai, in quei momenti lì non sai dove sbattere la testa, quindi questa sera parleremo un attimo di questa cosa, però cercherò di portare festa, perché comunque la mia missione è quella di portare festa, quando faccio musica è quella di portare festa. Sul palco, insieme a lui, una delle più affiatate e travolgenti big band che la musica italiana possa vantare, che dai tempi di Torno Sabato con Panariello lo accompagna in tv, a teatro e in tutti i concerti nelle piazze italiane e straniere. Ci sono tutte le piazze che ti aspettano in ogni tuo concerto, però c'è anche un'altra piazza che è quella virtuale di Facebook, dove il pubblico condivide filmati, foto, un po' di tutto. Bravo, sì, infatti l'abbiamo chiamato Social Swing Tour, questo tournée, perché a un certo momento noi durante il concerto facciamo una foto e la mettiamo immediatamente sulla mia pagina di Facebook ufficiale e sulla mia pagina Twitter e così alla fine della tournée vedremo quale città ha partecipato più numerosa al concerto, ma così anche la gente si può taggare, può scrivere, sai che si possono fare i quadratini e lo si può fare immediatamente, ormai con la tecnologia si può fare tutto, infatti dopo la foto invito tutti quanti a guardare, se vogliono guardare sul telefonino loro ci sono già e si taggeranno. Per quelli che non hanno 22 anni come me, taggare è un gergo giovanile di noi giovani. E poi c'è un altro aspetto importante, ovvero che negli ultimi anni l'innata simpatia e la duttile personalità gli hanno permesso di affiancare nella duplice veste di musicista e showman televisivo e teatrale, noti personaggi della televisione italiana come Giorgio Panariello, Carlo Conti, Millie Carlucci, Fabrizio Frizzi, negli show più riusciti del varietà targato Rai 1. Senti, e per i prossimi progetti in tv? Guarda, sono sincero, mi sono arrivato un paio di proposte, però io sono uno di quelli che ha imparato nella vita a godere il momento, quindi i miei musicisti stanno come sempre facendo gli scherzi, voglio godermi questa tournée, poi è chiaro, mi auguro che vadano in porto perché mi piace tantissimo fare anche la televisione, però quando ero ragazzo pensavo sempre a quello che doveva capitare, non mi riuscivo mai a godermi di quello che stava capitando e quindi adesso siamo in tournée, sta andando benissimo, viene sempre tanta gente, si divertono tutti, quindi adesso pensiamo a questo. Paolo ancora una volta ringrazia l'Abruzzo per gli ottimi ingredienti che gli sa offrire ogni volta con l'amicizia, l'accoglienza e ottimi piatti enogastronomici, ma lui però sa restituirci ogni volta che viene da queste parti altri ingredienti come la buona musica, il divertimento e l'entusiasmo, quegli ingredienti capaci di trasformare ogni suo concerto con la sua travolgente musica dal vivo in una grande festa, cantando, ballando e saltando tutti insieme al ritmo di swing. Quattro La Quattro Guaira, Pantanamera Vamo, vamo, saldate Pantanamera